Poi c'è anche questo pericolo, sì! ...i vertici Rai quindi sono stati nominati e vedremo anche come si comporteranno con una televisione pubblica che non se la passa bene, non se la passa bene nemmeno, ma è di asset, chissà perché... Questa è lì! Cari amiche e cari amici ben ritrovati con TV Chioggia Sottomarina, con Gong, la radio in libertà, la radio in libertà perché questo programma è radiofonico, non solo televisivo. Abbiamo un ospite in studio oggi, abbiamo Italo Sbrogiò che... ho parlato con lui per qualche mezz'ora, sembra un ragazzo di vent'anni, ha un entusiasmo fantastico, però lui ricorda molte cose. Incominciò a lavorare nel 1950, dunque sono passati già 62 anni. Vogliamo parlare con Italo? Caro Italo? Bene! Italo Sbrogiò, nato a Favaro Veneto, Venezia, nel 1934 in maggio. Provengo da una famiglia numerosa perché eravamo nove fratelli, i cui quattro maschi e cinque femmine, praticamente poi dopo due sono morti, siamo rimasti in sette e sette siamo ancora vivi. Io mi trovo all'età adesso di 78 anni e voglio raccontare questa mia storia e la voglio portare a conoscenza soprattutto a queste nuove generazioni che sono in evoluzione e spero su quello che dirò di essere chiaro, di essere capito e che ne valga praticamente la pena che questa gioventù, che questi ascoltatori che vedranno e sentiranno ne possano fare tesoro, fra virgolette, ma comunque che possa servire. io in quel periodo non ho conseguito nemmeno la licenza elementare perché praticamente ho dovuto affacciarmi al mondo del lavoro, ma anche per due questioni, non solamente perché eravamo famiglia numerosa e di conseguenza anche povera, ma anche perché le vicissitudini della guerra in quel periodo avevano occupato le scuole, gli sfollati avevano occupato le scuole per i bombardamenti che praticamente si trovavano a Marghera. in cui io non andando a scuola, rimanere a casa era un fatto che non poteva praticamente esistere e mio padre mi ha trovato subito un lavoro a quell'epoca nell'impresa Saccaim di Mantelli, un'impresa edile che stava facendo le bonifiche a Marghera per l'insediamento industriale dove poi dopo è nato il petrochimico. Io praticamente ho avuto una vicissitudine, l'ho chiamata fortuna per il mio passato, adesso è una cosa molto discutibile per tutte le vicissitudini che poi praticamente mi ha anche procurato questa attività politica, cioè praticamente avevo l'età di dieci anni ed ero già nell'organizzazione dei Pionieri che era un'organizzazione affiliata ai giovani comunisti, anche perché avevo un lavoro su questo mondo politico. Mi trovo di avere questo impiego su un'impresa e mi ricordo che il mio primo lavoro era quello di chiudere e di aprire una sbarra perché doveva passare dei camion con dei ghiaglioni che venivano dalle colline del Trevigiano, portare il ghiaglione per bonificare praticamente questa laguna che si trovava lì alla Rana, si chiamava, di Marghera. E io cominciavo anche a conoscere queste prime angherie di come ero comandato, di aprire e chiudere questa sbarra quando che il camion per entrare e uscire aveva tre minuti. Ogni tre minuti dovevo fare questo lavoro che io lo ritenevo anche inutile. E quindi cominciavo anche a discutere con il capo cantiere di dire ma se io mi metto qua in piedi e sto attento perché devo aprire e chiudere? E chissà perché. Lui cosa ha voluto? Ha voluto come ponirmi questa mia interprendenza praticamente che avevo, seppur essendo giovane, mi ha dato un pezzo di rotaia, un martello e nei tempi morti mi faceva radizzare i chiodi che usavano i carpentieri in legno quando facevano le armature. Tanto è vero che questi chiodi una volta radizzati non potevano essere rimessi in opera perché avevano sempre quel punto debole di curvatura e quindi avevo capito che era un dispetto, allora lo chiamavo, un dispetto perché non so, forse prestavo certe attenzioni, forse parlavo troppo, forse invadevo un campo che allora a questi assistenti, a questi capocantieri non gli comodava. Andiamo alla politica perché la politica hai fatto anche non solo in fabbrica, dalla fabbrica la politica poi l'ha portata anche sui banchi del Comune di Venezia. Esatto, allora io praticamente avendo questa predisposizione, oltre che lavorare dieci ore al giorno, perché c'erano sì le otto ore, però le otto ore praticamente non erano mai sufficienti per i programmi che aveva il datore di lavoro e praticamente ti faceva fare sempre due ore di straordinario, al punto tale che allora negli anni 60, quando partiva questi accenni del benessere, il fornello a gas, la lavatrice, il frigorifero e così via, ti costringevano praticamente a fare queste ore di lavoro perché altrimenti non potevi pagare le cambiali. Io oltre che a lavorare queste dieci ore mi sono dato da fare anche dal punto di vista della politica e mi è stato proposto dal partito, quindi allora era 62-63, di mettermi consigliere comunale. Quando il PCI allora con la sua organizzazione ti metteva in lista che dovevi essere scelto, dovevi essere eletto, il 110% eri garantito che venivi eletto e infatti sono venuto eletto e sono andato in consiglio comunale. Quindi mi sono trovato praticamente con una scolarità da quarta elementare, perché poi dopo la quinta elementare l'ho conseguita facendo la scuola. Ma c'era molta esperienza anche nel lavoro, perché la scuola ti dà sì l'istruzione generale, però nel vivere nel mondo del lavoro è un'altra cosa. Dunque avevi questo know-how, dicono così, oggi. E difatti questa è la professionalità che ancora oggi necessita che ci sia, insomma, e che si sta perdendo perché praticamente gli insegnamenti della professione vengono attraverso altri mezzi. Vabbè, comunque io mi sono trovato sui banchi di un consiglio comunale a Venezia, che non sapevo nemmeno parlare in italiano perché parlavo ancora in dialetto. Naturalmente la cravata io non l'avevo perché le camicie era difficile averle in quel periodo. E mi ricordo che nell'etica di allora c'era anche un'etica di comportamento che in consiglio comunale era obbligato di andare con la cravata e la camicia e la giacca, insomma. Io ho detto, ma se sono povero e non ho i soldi di comprarmi questo, e poi vengo dal posto di lavoro. Sul posto di lavoro non è che abbiamo le camere in cui possiamo lavarsi, spogliarsi e così via. E' tutta una cosa che sta, sì, venendo, progredendo, ma mi devo dare una lavata e poi dopo partire. E mi ricordo che c'era un consigliere comunale della democrazia cristiana, che poi è diventato onorevole, Gagliardi, che praticamente è stato colpito così, del modo come io gli ho spiegato questo, e ha fatto un ordine del giorno e praticamente è stato modificato il regolamento che si poteva presentare in consiglio comunale anche senza cravata. E io venivo via dal lavoro, mi presentavo e andavo lì insomma. Quindi avevo già queste attitudini, queste predisposizioni e il partito praticamente mi ha detto guarda che adesso, nella misura in cui diventerai referente anche in fabbrica, tu porterai qui i problemi in consiglio comunale, dalla fabbrica al consiglio comunale, al consiglio comunale al territorio, finita questa legislatura e ti metteremo anche... Alla fine com'è andata a finire poi? Con tutto sto discorso, con la politica eccetera, andiamo a concludere. T'hanno cacciato. Succede anche questo nelle migliori famiglie. Alla fine praticamente com'è andata a finire? E' andata a finire che eravamo negli anni 60, 62, 63, 64, c'era questo movimento rivoluzionario, Cuba, l'America Latina, c'erano questi gruppi armati di quelle nazioni, il Mir, mi ricordo che come partito facevamo anche delle sottoscrizioni per sovvezionare praticamente queste lotte armate e così via, e tieni presente che nel mio DNA praticamente era, sì, stata negli anni del dopoguerra, con la formazione della Costituzione, quando è stato rotto il governo di coalizione, praticamente le elezioni, ha vinto la democrazia cristiana, noi come partito comunista abbiamo perso, però non è stata una resa di conti. Abbiamo perso, va bene, però continuavamo a lavorare praticamente sempre con un spirito insurrezionale. Cioè questo qui era sempre presente. Sempre un discorso di protesta costruttiva naturalmente, la protesta, una protesta costruttiva. Sempre, sempre perché noi prima il dovere e poi il diritto, e quindi ci sottoponevamo anche a delle angherie inaccettabili, ecco, però pur di fare proseliti, pur di farci capire chi eravamo, che non eravamo, dei mangia bambini, dei demoni, come praticamente volevano farci capire, anche se poi dopo ho capito che avevano anche ragione, perché già allora nell'Unione Sovietica c'erano questi comportamenti infami, che se li avessi conosciuti forse non mi sarei nemmeno affacciato da giovane al Partito Comunista. E praticamente cosa mi è successo? Mi è successo che con questi avvenimenti del movimento studentesco sono nate le prime contestazioni e io mi sono trovato praticamente nel giro di 6-7 mesi con un salto di qualità, sì teorico, però quella teoria spiccia che interessava, che interessava praticamente, per farci spiegare, non so, per esempio, mi ricordo che c'erano dei rinnovi del contratto, il sindacato praticamente proclamava lo sciopero, il partito all'interno della fabbrica era inesistente, i scioperi non riuscivano e allora il movimento studentesco, quando sapevano che c'era questo sciopero, si sono presentati, io ero membro di commissione interna, ero stato votato a stragrande maggioranza in commissione interna e questi mi hanno detto ma guarda che facciamo il picchetto, ma io il picchetto, conoscevo il picchetto militare, quando ho fatto il militare che si faceva il picchetto, non sapevo nemmeno cosa volevo dire, e allora gli ho detto ma cos'è questo picchetto? Allora loro in due minuti mi hanno spiegato, ci mettiamo davanti i cancelli, ci mettiamo a discutere, praticamente così facciamo questo assembramento, quando arriva gli operai che devono entrare, vedono questo assembramento, sono destati da una certa curiosità, si fermano, sentono, un qualcuno va dentro, la stragrande maggioranza andrà dentro, ma vedrai che gente si fermerà fuori, e poi dopo vedrai che il prossimo siopero, il prossimo siopero ancora, questo picchetto aumenta, e a un certo momento possiamo anche noi assumere un comportamento e fermare la gente e dire no, guarda che oggi tu non vai a lavorare perché c'è siopero, e questo ti dirà, ma siopero per che cosa? Per rinnovo il contratto, e questo ti risponderà, ma a me non mi interessa, io vado a lavorare, e allora noi rispondiamo, ah non ti interessa, però allora sottoscrivimi, che rinunci, tutti gli aumenti, tutte le modifiche che verranno fatte a fine quando faremo il contratto, eh no, io no, non rinuncio a questo, e allora non vai dentro, rimani fuori, e quindi, questa è già una questione di etica, questa è già una questione di etica, però è già anche, molti discutevano, dicono, ma tu sei antidemocratico, perché praticamente non mi lasci la libertà, di scegliere se star fuori o se... Certo, la libertà di scegliere star fuori, però anche di non volere quello che gli altri hanno, perché hanno combattuto. Esatto. Sottotitoli